Sono triste, incazzato e sono anche un hashtag pirla, un hashtag pirla sono, si, si, si Ragazzi ho registrato 20 minuti di video, immaginate, senza microfono Cioè io ho finito tutto senza microfono, ora vi metterò qualche spezione di video velocizzato in piccolo ragazzi Per farvi vedere che non è una stronzata, ma porca trota col microfono Oh, vabbè alla fine non ho fatto nulla ragazzi, solamente completato e ho spiegato tutto il processo Porca trota, vabbè ho spostato i villager, vi metterò lo spezzone, l'avrete già visto, lo vedrete, non lo so Comunque, ragazzi, ricapitolando, tanto qua ho sbagliato tutto, devo rifarlo e ne approfitto a rispiegarvelo, ok? Ora, ho già messo i 3 villager dentro, ora i villager fapperanno tra di loro, grazie alla coltivazione di carote E dovrebbero fare i cuccioli, gli stronzetti, gli stronzetti passeranno sotto l'acqua, ora vi spiego veloce Poi crafterò quello che mi manca, ok? Allora, perfetto Perfetto Voilà, ok, allora Ho messo queste trapdoor perché i piccoletti, gli stronzetti, ma ti stai zitto, crepi? 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 Ti vengo a prendere? Ok, crepato Gli stronzetti, passando qua sotto, perché ci passano sotto il blocco alto 1, guardate Le trapdoor equivalgono a un blocco, gli stronzetti sono stronzi, non lo sanno, ci vanno sopra e nonostante siano aperte cadono giù Per cui vengono trasportati dall'acqua dalla parte opposta, ok? Vanno di qua e gli stronzetti proseguono fino ad arrivare qui, ok? Ora io qua ho sbagliato, devo rifarlo, devo abbassare tutto di 1 Fate conto io sia uno stronzetto piccolo E fate conto che quest'acqua sia più bassa di 1 Scusatemi Grazie Fate conto che quell'acqua sia bassa di 1, ok? Io sono uno stronzetto e l'acqua arriva qui Essendo uno stronzetto alto un cubo, io rimango qua tutto il tempo Ci vogliono ben 20 minuti reali che lo stronzetto diventa uno stronzo grande Un villager vero e proprio Se l'acqua è qui e io sono un villager, inizio ad annegare Sono stronzo, ma non pirla Io villager stupido, stando annegando, cerco di risalire Cercando una fonte, cercando un riparo Trovato il riparo che è qua sopra, rimango intrappolato Poi deciderò io cosa fare con i villager nei prossimi video Vi farò vedere una cosa che mi sto tradizionalmente studiando Grazie ai video americani Un metodo, grazie alla Redstone e quant'altro Di come prendere i villager e portarli poi su Nel vero e proprio impianto Che è quello che ci farà modo di far spawnare i golem I golem poi saranno una fonte di ferro infinito Io spero di aver spiegato Sei un pezzo di merda No, no, te lo dico Non è che te lo racconto Te lo dico, sei un pezzo di merda Ok? Grazie Ragazzi una cosa importante Se questo video lo state vedendo Oggi che è il 16 febbraio 2015 Nel primo pomeriggio Vuol dire che siete stati bravi nel video scorso E avete raggiunto gli oltre 5.000 pollici in su Nel video delle 15 Ok? Se lo state vedendo il giorno dopo Vuol dire che non siamo arrivati a quel totto di pollici in su Ma comunque sia, lo vedete lo stesso Ok? Io vado a casa perché mi serve della legna Anzi siamo già qua E le vado a prendere qua la legna Però non abbiamo più cibo Mangio questo A costo di avvelenare Ecco Come non detto Mi sono avvelenato Hai visto? Allora Raccogliamo della legna Perché mi servono altre trapdoor Ok Quanta legna ho? Ben 6 Dovrebbero bastare Sì Ok Andiamo a fare delle trapdoor Perché me ne servono un paio 2-3 2-3 Perché non ho completato tutto l'ambaradam Ora questi villageri dovranno accoppiarsi Perché se no io li uccido Così giusto per Giusto per Giusto per Così giusto per Così giusto per Così giusto per Allora Prendiamo le trapdrop Dove sono qua le trapdrop Scendiamo giù Senza rovinare il raccolto Vedete che ragazzi loro Stanno farmando intanto Perché stanno l'accogliendo e ripiantando Avete visto? Figata Ok Mettiamo quelle mancanti Bam bam Perfetto I hit the pinky pluck Perfetto Ora non so quanto ci voglia Per farli accoppiare Ok Quando io troverò altri villageri Li butterò là dentro Così più sono Più percentuali Sia di accoppiamento Devo rifare tutto qua ragazzi Per cui devo rompere tutto Ma prima di rompere tutto Mi serve della Della sabbia E del vetro soprattutto Allora Facciamo delle fornaci Me ne viene una Ma non ci credo Facciamo una pala E raccogliamo Della sabbia Ho trovato anche della cobblestone Giusto 3-4 pezzi Ok possiamo risalire e andarcene Prendiamo la terra Andarcene su Perché ragazzi? Perché mi serve del vetro Ok Allora andiamo lì Facciamo un'altra fornace Così con due fornace Il processo è un po' più Io sto crepando di fame ragazzi Allora Facciamo un'altra fornace Voila Così mentre cuociamo Io vado a prendere del cibo ragazzi E voi venite con me logicamente Guardate che figata le fornace Ok Mettiamo a cuocerne 20 Ah l'ho preso un bel po' Uno stack Wow 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 Ne mettiamo un po' di là Perfetto Ora prendete il cibo a casa ragazzi Per forza Intanto unite con me Io vi racconto un qualcosa Allora Parliamo dei pollici in su ragazzi Molti mi stanno dicendo Luke ma tu non eri contrario Alla storia di richiedere i pollici in su Allora precisiamo Primo Mi sono fatto prendere anch'io da questa influenza Ok ci sto Lo ammetto Però E' ben diverso Perché le frasi sono state poste in modo diverso Un conto su una persona dice Ragazzi Tot like Per il prossimo video in generale E finché i like non arrivino a quel video Io il prossimo video non ve lo carico Quella è una pretesa bella e buona Ok Mentre il mio La mia questione è ben diversa Ossia Ragazzi Se il video raggiunge tot like Entro tot tempo Io il video ce l'ho comunque Ok Perché questo video per esempio Lo sto già facendo Poi Avendolo già registrato E già renderizzato Io poi guardo E se il vecchio video ha raggiunto 5000 like Come da me richiesto Allora questo video Ve lo carico il giorno stesso Ok Mi seguite Se i like Non vengono raggiunti Il video Non è che ve lo carico Quando i like Vengono raggiunti No Ve lo caricherei Comunque Il giorno dopo Alle 13 Per cui non è una pretesa E' solamente un'accelerazione E' un punto extra Ossia Un Come si dice Un regalino per voi E per me A me fa piacere Ricevere i pollici in su Perché Vuol dire che la serie piace O che il mio lavoro che faccio Piace Per cui è una soddisfazione Tra virgolette E per voi Anche un regalino Perché Se mettete tanti pollici in su Il video Che tanto volete Arriva prima del previsto Ma Al contrario Arriverebbe comunque Cioè Spero abbiate capito ragazzi Il concetto La mia non è una pretesa E' solamente un Non so mai spiegarlo ragazzi I più intelligenti capiscono I più Deficienti Rimangono arretrati Come la preistoria I tempi della pietra Quando c'era la porcellana Che si rompeva Grazie a un piccone Che Veniva sottoposto Sotto la clay Dell'acqua Sotto Della Antiquariata Che poi Tutto viene colto E sovrapposto Al Rifugio Sottostante Del Del giardiniere Che poi prende le pannocchie E fa così E fa il pane E possiamo finalmente mangiare Ok Però ragazzi Una cosa altra importante Mi sono dimenticato Prima di fare il pirla Era che Anche se Quei video Poi li vedete in ritardo Per esempio tu Che stai Eh sta passando un camion Sotto casa mia Non so di che cosa sia Ho fatto anche rima Vabbè Scusate il casino Tu Che magari stai guardando Questo video Dopo una settimana Dalla pubblicazione Non è che adesso Tu non devi mettere Pollici in su Perché tanto gli altri L'hanno già messi No Mettilo anche tu Perché Un pollice in su In più Fa sempre piacere Allo youtuber E non per i giochetti Fatti prima Ok Perché se io dico Ragazzi A 5000 pollici in su Il video Esce oggi Prima del previsto Ok Tu che lo guardi Dopo una settimana Non ti interessa Questa storiella Però comunque sia Metti pollici in su Se ti piace il video Lo stesso No Ok Io ragazzi Sto spiegando Come un pomodoro In calore sotto Un cerbiatto Io non c'ho anche il letto Do tornare a casa Vabbè Ci vediamo dopo Ok Allora Dobbiamo distruggere tutto Però Devo riprendermi l'acqua Che mi serve Devo riprendermi l'acqua Perfetto Ok Ora 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 Facciamo così Chiudiamo l'acqua Perfetto E distruggiamo tutto Allora Eccoci qua Lì c'è l'ognometto Abbiamo detto qua Giusto Per cui qui Ci andrà l'acqua Allora Qua ci mettiamo un bel cartello Bam Voila L'ognometto Non dovrebbe poter Tornare indietro Per cui facciamo così E qua Si può chiudere Voila Ok Perché l'ognometto Arriva qua Perfetto Usciamo E l'ognometto Lo abbiamo rinchiuso Ora cosa succede ragazzi L'ognometto Se io qua metto l'acqua Guardate Se io qui metto l'acqua Voila Intelligente Guardate L'ognometto Qua dentro Rimane Rimane vivo Di là non può andare Perché non è pirla Non torna indietro Poi c'è la corrente E in su Non ce la farebbe a nuotare Ok Rimane qua vivo Tutto il tempo Fino a chi non cresce Dovano passare Ben 20 minuti Prima che l'ognometto Cresca Una volta cresciuto Diventerà un villaggiere Come detto Prima E inizierà ad annegare Siccome non è stronzo Il villaggiere Cerca di risalire E noi Lo faremo salire Giusto Perché non siamo stronzi Non vogliamo ucciderlo Vogliamo semplicemente Catturarlo Ora Continuiamo a salire Voila Mettiamo un altro cartello Qui E possiamo farlo Quante volte noi vogliamo Anche qui acqua Voila E andiamo su Anzi no Potremmo anche Stoppare qui Tutto il processo Si stoppiamo qui Tutto il processo Per cui Una volta arrivati qui Guardate Facciamo così E li creiamo La catturaggine Ok La catturaggine Ho detto La catturaggine Ossia Lo catturiamo Così Così E così Facciamo il contorno Qua Bam In modo che lui Rimane qua Catturato Mettiamo il vetro Perché Come detto Miliardo di volte Sul vetro Non spawnano i mob Ostili E mob cattivi Ok Per cui Ricapitoliamo Io sono villagerino Rimango giù vivo Cresco Inizio ad annegare Allora cerco Di trovare Un rifugio Lo trovo E rimango incastrato Ok Avete capito ragazzi Perché una cosa figa Una volta incastrati qua Tutti i nostri villageri Una volta ne avremo Un bel po' Faremo Farò nei prossimi video Oltre ad ascoltare I vostri consigli Come detto già Mi sto escogitando qualcosa Grazie alla red Sono un meccanismo Con le re Le red Sono eccetera eccetera Da lì Portare i villageri Direttamente Al nostro farm Alla nostra farm Di iron Ok Perfetto Spero Di essere stato Chiarito chiaro Ora non so Perché non stanno Facendo l'amore Con il sapone Perché ragazzi Serve molta pazienza E poi Devono crescere Devono piantare Eccetera eccetera Ok Ok Io spero Di essere stato chiaro Come al solito Mi raccomando Circondatemi Di pollici in su E di commenti Condividete tutto ciò Che volete Da Luke è tutto Un bacione Un abbraccio Ciao a tutti